Il reparto di musica da Pioneer High School in Ann Arbor, Michigan, negli Stati Uniti d'America, presenta con orgoglio l'orchestra di repertorio da Pioneer suona delle selezioni di Hayden, Rotter e Foote. L'orchestra sinfonica a corda suona delle selezioni di Shostakovich, Debussy e Rotter. Torneremo al Auditorium Schreiber in Ann Arbor il 2 aprile alle 19, al Auditorium Camera di Commercio il 8 aprile e a Chiesa di San Giovanni Bosco il 11 aprile alle 21.